Ciao a tutti! Ci siamo! Buongiorno, buon venerdì! Ben arrivati in questa diretta, questa live, questa ricetta che faremo appunto con voi che vi state collegando adesso oppure anche benvenuti a tutti quelli che vedranno la ricetta dopo, quindi quando chiuderemo questa diretta. Allora, oggi vi preparerò una cosa molto molto gustosa che si prepara in pochissimo tempo, a parte poi un pochino di tempi di lievitazione, ma lì non dobbiamo fare niente. Mi è stata suggerita da una mia follower, insomma da una ragazza che è della mia community e vi farò le pipas. Tu sai che cosa sono Chiara? Io lo so! Ecco, allora adesso ve lo spiego, sono delle grissini, una specie di grissini schiacciatine che vengono fatte in Spagna, sono tipiche insomma spagnoli, ma adesso ci sono anche qua da noi, con i semi di girasole, sono veramente piacevoli, una tira l'altra ed è una ricetta secondo me perfetta, tra l'altro completamente vegana perché a base di olio extravergine d'oliva e nient'altro. Quindi vi state, si stanno collegando un pochino, io adesso intanto posso andare avanti con la ricetta, anche che è brevissima tra l'altro, poi tanto piano piano vi ripeteremo gli ingredienti, mano a mano vi entrerete con noi nella diretta, mi raccomando partecipate, fate le domande, intervenite così Chiara che è dall'altra parte, può leggere e può trasferirmi i vostri commenti. Vai partiamo! Va bene, allora, guarda un po' Chiara, ti prego di inquadrare gli ingredienti per far vedere la loro semplicità. Mi serviranno, io vi faccio una dose per una dozzina, 15 pipas, insomma poi dopo voi potrete raddoppiare il quantitativo. 150 grammi di farina, una buona farina, io uso la farina zero. 150 grammi, quindi lo stesso quantitativo di acqua, 30 grammi di olio, io uso extravergine d'oliva, la ricetta originale prevedeva l'olio di girasole, ma io insomma preferisco dare anche un gusto in più. 50 grammi di semi di girasole, poi ne tenete un pochino in più, un cucchiaio in più da aggiungere poi sopra eventualmente. un mezzo cucchiaino di lievito di birra disidratato, voi calcolate, saranno circa un grammo e mezzo, quindi se utilizzate il lievito di birra fresco triplicate la dose, quindi sui 5 grammi, 4 grammi e mezzo, 5 di lievito di birra fresco, se siete abituati ad utilizzare quello. E anche un cucchiaino raso di sale fine, questi sono gli ingredienti. Perfetto, facilissimo. Possiamo partire? C'è qualche commento? No, quindi andiamo, io naturalmente ho messo l'avviso anche su Instagram di seguirmi qui, quindi magari qualcuno che vede le storie si avvicinerà. Allora, iniziamo, guardate, tutto in ciotola, con una ciotola e un cucchiaio. Vado ad aggiungere il lievito, così, è divertente perché è molto semplice, quindi l'effetto è un effetto simpatico, il risultato, e allora vale la pena farli preparare anche noi, non lasciarli solo fare agli amici spagnoli. Mettiamo l'olio, che abbiamo detto sono 30 grammi, 30 grammi di olio, ti ho detto giusto? Sì, ma l'hai scritto. Poi acqua, che ne mettiamo 150 grammi. Allora, io farò una versione di questi biscottini perché ho voluto fare proprio la più semplice, non mi sono voluta andare a complicare la vita, e facendola anche in poche mosse. Ci sono anche altre versioni, quindi noi faremo un impasto, come vedrete, molto morbido, ma potrete farla anche nella versione impasto classico, che poi dovrete andare a tirare col mattarello, se preferite quella. Allora, io però qua forse non ho misurato bene l'acqua, perché deve diventare un pochino più, io so come deve diventare, quindi non l'avrò pesata bene nella mia caraffa. Fate i pesi che vi ho detto che sono giusti. Quindi prepariamo le pipas, che sono queste specie di grassini un po' schiacciati, con i semi di girasole buoni, croccanti, fragranti, buonissimi e velocissimi. Croccantissimi, davvero molto croccanti. Quindi adesso abbiamo unito ai 150 grammi di farina il mezzo cucchiaino di lievito disidratato e i 150 grammi d'acqua. Sì, sì, vi faccio vedere il risultato, io mi sono, si vede distratta, non l'ho. Ok, e i 30 grammi di olio extravergine d'oliva. Ok, poi abbiamo già messo anche il sale, vero? Ah, il sale, sì. No, il sale ti manca. Ah, ok. Abbiamo messo il pepe, che era sempre... No, il pepe no, schiara. Eh, guarda, è messo il pepe. Eh, no, era il mio erito, scusate. Oh, c... Scusate. È un segnerito, no, il sale ancora no. Ok, otterrete praticamente un impasto così, ok? Ok, quindi deve essere morbido. Morbido. Poi aggiungiamo adesso il sale. Gli ingredienti erano quelli che vi ho fatto vedere lì. Il mezzo cucchiaio di sale, ok? Esatto. E abbiamo messo tutto. E abbiamo messo tutto. Io vi ho detto che appunto faccio la ricetta più veloce, che è quella che poi adesso vi farò vedere che metodo prevede per la stesura di questi salatini. Se volete provare anche l'altra, vi terrete solamente più scarsi quando utilizzerete l'acqua e dovrete ottenere il classico impasto, diciamo, da pizza, ok? Quindi probabilmente la dose dell'acqua è dimezzata per ottenere. E questo è l'impasto. Non dovete neanche lavorarlo più di tanto. Questo è sufficiente. Va bene? Che cosa facciamo? A questo punto lo andiamo a coprire con una pellicola e dobbiamo aspettare che lieviti. Quindi ci vorrà almeno un'oretta e mezza. Ok, senti, ci chiedono. Se usano il lievito fresco? Sì. Devono mettere anche un po' di zucchero? Ah, mettiamoci lo zucchero, perché lo zucchero fa parte... Ecco, oggi va bene. Abbiamo capito che... Siamo un po' smemorini. Che Natalia oggi... Così mettiamo anche un cucchiaino di zucchero. Indipendentemente, sia dal lievito... Disidratato? Esatto, così. Ok? Ok. Perché ci va proprio lo zucchero che fa parte del... Deve dare il sapore. Perché è un salatino che però poi si sente anche un po'... Lo zuccherino. Esatto. E per esempio in molte ricette per fare questi salatini mettono il miele. Un cucchiaio di miele. Io non amo molto il sapore del miele, quindi ho optato più per la versione con lo zucchero. Ok? Ok. Poi per esempio ci sono anche altre ricette dove non è prevista la lievitazione. Cioè si mette il lievito, ma poi si procede subito alla cottura. Il risultato è un biscottino un pochino più compatto. Mentre così se noi lo facciamo lievitare, poi sarà un pochino più friabile. Ok. Quindi vanno bene un po' tutti. Proprio perché è semplice, è una ricetta furba. Andiamo a coprirla con la pellicola. Quindi adesso Chiara, con calma, ripetiamo gli ingredienti bene, aggiungendo nella lista il cucchiaino di zucchero. Va bene? Voglio ripeterlo tu, così o dico io? No, no, uguale. Allora abbiamo preparato per queste schiacciatine. P-pasta spagnole con i semi di girasole, 150 grammi di farina, 150 grammi d'acqua, 30 grammi di olio extravergine d'oliva. Esatto. Poi abbiamo messo 50 grammi di semi di girasole, mezzo cucchiaino di sale e di lievito disidratato e poi un pochino di zucchero. Avete visto un cucchiaino scarso di zucchero. Si fa lievitare un'oretta e mezza. Non aspettatevi del raddoppio perché non abbiamo messo tanto lievito e poi è un impasto che non cresce tantissimo. Però vedete si vede l'effetto del lievito perché fa... Quindi voi lasciate riposare un'oretta e mezzo e da così diventerà così. Ok. Ok, avete proprio tutte le due misure. Poi prendiamo una sac à poche, ok, o un sacchettino da supermercato, un sacchettino per la conservazione degli alimenti. Andrete a tagliare uno degli angoli e così avrete ottenuto la vostra sac à poche. In tanti, no, magari se non avete la vostra sac à poche, prendete uno di questi sacchettini, l'andate a tagliare nell'angolino e poi l'andrete ad utilizzare in questo modo. Avrete comunque una sac à poche casalinga. Perfetto. Senza dover stare a comprarle. Ok. Poi io mi aiuto appoggiandola a un bicchiere, a una caraffa, così non ho bisogno di chiedere aiuto a nessun altro. E vado a versare, vedete, il mio composto che è piuttosto morbido e colloso, collosetto, dentro. Ecco qua. Tutta a borda. Adesso tiriamo sui bordi. Ok. Così lo mettiamo tutto. Vedete anche quante ne vengono. Io ho fatto questo quantitativo perché preparandovele sia prima che dopo e avendo di nuovo poi questo da cuocco... Ne andiamo tipo una valanga. Esatto. Però ne avrò una bella quantità e sono sicura che andrà benissimo per la mia famiglia. Allora, prendete direttamente la teglia ricoperta da carta da forno, così. Poi andiamo a fare un buco nella nostra sac à poche. Ok. La chiudete, questa è proprio giusta di misura. Facciamo un buchino abbastanza non piccolo, no? Così. Ci sono anche semi. Esatto. E poi cominciamo a distribuire il nostro, l'impasto, vedete, stando molto leggeri, così ne uscirà quel tanto che basta, perché essendo liquido non dobbiamo andare a premere tanto. Però, vedete... Come se si volessero fare dei savoiardi. Esatto. Naturalmente io li faccio di questa misura, ma voi li potete fare più lunghi, più corti, li potete fare a mucchiettini, anche se non volete usare la sac à poche potete fare a cucchiaiate. Sì, di solito diciamo che queste pipas, forse le avrete anche viste nei negozi alimentari, li vendono anche qua già confezionati, tendono ad essere un po' lunghi. Senti, ci chiedono se possono usare i semi misti. Ma sì, certo. L'originale è fatto così, con i semi di girasole, ma potete fare tranquillamente anche con i semi per il pane già misti. E anche senza semi? Ma no, perché i semi aiutano, i semi rendono l'impasto più morbido, più fragrante, più piacevole. Quindi i semi mettete lì, perché è proprio una cosa tipica. Ok. Ok? Io posso anche stare abbastanza vicino, perché più di tanto, più di così non si allargeranno. Ok. Ok. Vedete, proprio rapido. Io ho preferito scegliere questo metodo, altrimenti c'è proprio il sistema classico, no? Dell'impasto, come vi ho detto, fate un impasto un po' più sostenuto e poi rimanete solo più scarsi con l'acqua. Niente, tutti gli altri ingredienti sono gli stessi. Dovrò poi prendere un'altra pentola, un'altra teglia, perché io so che qui ne verranno altre tre. Quindi ve le conto, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tre, quattordici, quindici, sedici, diciamo una ventina. Una ventina. Ok. Ok. Se li fate più o meno così. Se li fate così, esatto. I numeri... Se li fate più piccoli ve ne verranno il doppio. Esatto, per quello che non sono stata a essere troppo precisa col numero, perché dipende poi sempre dalla lunghezza. Poi adesso quegli semini che avete tenuto da parte, li andate a porre sopra. Così. Ok? Assieme un pochino di sale. Se avete il sale un pochino più grosso, tipo il sale di cervia, oppure il fleur de sel, che non è proprio fine fine, è meglio. Oppure anche del sale grosso, un po' battuto. Così dove andrà solo da qualche parte, non viene distribuito dappertutto e sarà più piacevole. Ok? Io metto questo. Potete anche aromatizzarli dopo, no? Se la cosa vi piace, aromatizzarli con... Tanto li fate così che è la versione originale. E poi potete divertirvi e fare... Con la curcuma. Con la curcuma. Metterci dentro un pochino di... Sai anche un po' di... Ci chiedono i pomodori secchi. Eh, stavo dicendo anch'io, ma più che pomodori secchi un po' di pomodoro concentrato rosso. Mettete sempre cose secche dopo. Ah, ok. Perché il pomodoro secco non è abbastanza secco, non è come i semi che sono cose croccanti. Fatto così, queste andranno nel forno caldo a 200 gradi, poi lì dipende sempre anche un po' dalle modalità di cottura del vostro forno, per una ventina di minuti. Importante è che sia un bel calore, ok? Quindi devo prendere proprio un bel calore. Quindi a 200 gradi, poi se il vostro forno a 200 gradi cuoce tantissimo, teneteli un pochino meno. Un quarto d'ora, ok? Ok. Quindi 200 gradi, 15-20 minuti. Esatto. E dovete comunque osservarli. Il risultato delle nostre pipas, guarda un po', è questo qui. Quindi, io ce l'ho già pronte, vedete che ne avevo anche già fatte. Vi faccio vedere com'è l'interno. Sono, ah, volendo, volendo, quando sono quasi cotte, che voi vedete che comunque si sono già indurite, potete spennellare sopra la superficie con un po' d'olio per andarla ad arricchire. Però così rimangono, diciamo, un pochino più leggere, no? Ecco. E vi ho detto una cosa, vedete? Rimangono nella parte più alta, leggermente morbide, poi quando è la parte invece in fondo, c'è la più croccantezza. Buone. Se le volete tenere proprio a livello di biscotto, io per esempio queste qui, le ho tenute ancora nel forno, cioè queste le ho tolte dopo 20 minuti, poi a forno spento le ho rimesse dentro e il risultato è proprio, vedi? Ah, certo. Ancora più croccanti. Sì, sì, sì. Quindi voi potete scegliere se mantenerle leggermente morbide, quindi dopo 20 minuti si sono colorite, le tirate via e sentirete che all'interno sono un pochino, no? Un pochino più morbidine, non proprio dure dure. Altrimenti vi piace più l'effetto crunchy? Spegnete il forno e le lasciate dentro a una temperatura più bassa ad asciugare. Vi durano tantissimo, sono carine da tenere sempre a disposizione, pronte per sgranocchiare con formaggi, salumi o anche così come semplice spezza fame. E la ricetta io non la conoscevo, ma l'ho trovata molto molto carina e divertente. Spero che vi sia piaciuta. Molto, sì, è piaciuto molto. Bene, allora mi fa piacere, insomma, di aver ripreso a fare anche le live qua il venerdì. Vi avviso già che cercherò di farle tutti i venerdì, quindi appuntamento a Ricetta Live qua sul mio canale YouTube e poi noi ci vediamo il lunedì su Instagram e su Facebook. Insomma, stiamo in compagnia. Va bene? Allora, grazie a tutti. Grazie a Chiara e grazie di aver partecipato. Alla prossima. Ciao! Ciao!